Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno, in uscita in direzione Sud, su raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e imprunita greve inchianti con possibili disagi alla circolazione. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Fino al 9 marzo chiusa la funnicolare di Certaldo per lavori, attivo servizio di trasporto alternativo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!